Ed eccoci di nuovo qui per raccontare quello che è il mondo della ricerca con CRS4, ne abbiamo iniziato a parlare con il presidente Cabras, vorrei chiamare qui sul palco Giacomo Cao, amministratore unico CRS4. Benvenuto dottor Cao, noi stiamo vedendo anche la storia lunga trent'anni della ricerca attraverso il CRS4 e intanto le chiedo che cosa ha rappresentato questo lungo percorso anche di costruzione dell'innovazione nella storia della Sardegna e dell'Italia. Ma intanto grazie per l'invito che CRS4 ha accolto con estremo piacere. Cosa ha rappresentato? CRS4 è una realtà che è appunto nata trent'anni fa come veniva ricordato, è una realtà che ha messo in campo il primo sito internet in Italia, è una realtà che ha messo in campo il primo quotidiano online in Italia, è una realtà che ha messo in campo una piattaforma di sequenziamento genomico prima in Italia negli anni 2000, quindi diciamo un contributo direi estremamente significativo e ci auguriamo di poter dare ancora un contributo a questa terra. E' un contributo anche di divulgazione, intanto vorrei coinvolgere Anna Gaudenzi, direttrice di Startup Italia e chiedere alla regia se ci manda delle immagini che raccontano anche poi come la ricerca esce dai confini, dai laboratori e abbraccia anche la comunità, in questo caso la comunità dei più giovani, perché nelle immagini che vedremo tra qualche istante vediamo proprio un percorso di ricerca della scienza, il ruolo della scienza con gli studenti, con i più giovani, anche accompagnati dai divulgatori. Qui stiamo invece vedendo le immagini storiche che abbiamo visto, insomma il percorso storico. Anna? Sì, io volevo chiedere al dottor Cao anche a proposito della ricerca aerospaziale, dato il suo ruolo importante in Sardegna, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma intanto grazie per questa domanda che aiuta a dare un'immagine di uno scenario scientifico tecnologico in Sardegna di grandissima rilevanza, che forse una decina di anni fa nessuno si aspettava ci fosse. Il CRS4 è socio del distretto aerospaziale della Sardegna, io come diceva giustamente rappresento anche il distretto aerospaziale della Sardegna. È una macchina che ha consentito, insieme ad altri attori, di attrarre sul territorio della Sardegna negli ultimi dieci anni, poco meno di dieci anni, oltre 180 milioni di investimento sul radiotelescopio e su altre iniziative di estrema rilevanza. Oggi la Sardegna è un punto di riferimento nel comparto della propulsione spaziale. Oggi la Sardegna è un punto di riferimento su varie altre tematiche. Il settore aerospaziale in senso lato è un settore che guarda evidentemente ai prossimi 30-40 anni. E quindi io credo sia un bene che la Sardegna abbia fatto questo tipo di investimento, abbia inserito e abbia voluto inserire e mantenere in strategia di specializzazione intelligente l'aerospazio, così come del resto ha fatto anche il nostro paese, l'Italia. E quindi ritengo che si possa dare un contributo ancora più significativo a questa tematica. Il nostro astronauta in qualche modo non è un caso, anche qui c'entra sempre con il tema, è ben centrato anche sulla Sardegna. Assolutamente centrato, anche perché l'aerospazio guarda, è il distretto aerospaziale, in particolare tra le varie tematiche guarda lo spazio profondo, l'esplorazione dello spazio profondo. Il distretto aerospaziale della Sardegna è in questo momento forse l'unico distretto italiano che ha una proprietà intellettuale nel settore dell'esplorazione spaziale. Ci sono due brevetti, a suo tempo costruiti anche nell'ambito di una rapportazione che ha visto coinvolto il CRS4, l'Università di Cagliari, la stessa agenzia spaziale italiana. Dicevo due brevetti che guardano all'esplorazione dello spazio profondo, già operativi e concessi, come si usa a dire in gergo tecnico, in Europa, Stati Uniti, Cina, Russia, Giappone e India. Quindi credetemi, poter dire queste cose dalla Sardegna è un fatto non solo di grande orgoglio, ma un fatto io credo estremamente rilevante per il futuro dell'isola. Certo, ma quest'anno, l'anno del pandemico, insomma purtroppo non possiamo dire ancora terminato, com'è stato per la ricerca in Sardegna? È stato un anno sicuramente difficile. Il vantaggio almeno per il CRS4, che svolge un'attività strettamente connessa all'utilizzo di laboratori elettronici, computer di grandissima potenza, peraltro, abbiamo recentemente chiuso un bando che ci ha consentito di raddoppiare la potenza di calcolo al CRS4. Dicevo, tutta questa infrastruttura computazionale che abbiamo ci consente naturalmente di operare da remoto e quindi di svolgere tutte le attività, diciamo, di carattere scientifico e tecnologico che il CRS4 tipicamente svolge. È chiaro che un filo di difficoltà in più, l'ho vissuta personalmente, è legata invece alle attività che si svolgono nei laboratori. Nei laboratori è stata più dura, ma devo dire che, insomma, sotto il profilo anche dei codici ATECO, dei primissimi decreti, il codice ATECO relativo alla ricerca è sempre stato fatto salvo, fortunatamente, e questo ha consentito comunque, naturalmente con le difficoltà che la pandemia ha purtroppo messo in campo, di operare. E, insomma, qualche buon risultato è venuto fuori lo stesso e speriamo di poterlo declinare anche a mezzo stampa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Giacomo Caolo, faccio tornare indietro in una fase pre-pandemica, perché chiedo alla regia se abbiamo ripreso le immagini fuori dai laboratori, in mezzo al mare, con gli studenti, che insomma imparano a conoscere meglio anche quella che era la straordinaria forza di questa terra, ma attraverso anche la ricerca. Insomma, che fase anche dobbiamo riscrivere in questa fase anche post-pandemica, anche rispetto a queste immagini di divulgazione? Ma, intanto, sottolineare il fatto che la divulgazione è cruciale, noi la portiamo avanti strutturalmente, io stesso mi metto in gioco, non più di qualche settimana fa ho tenuto un seminario per degli allievi di una scuola, ma il mare che mi state mostrando in queste, credo sia il nostro mare meraviglioso evidentemente, che state mostrando in questo filmato, mi ricorda e mi fa tornare indietro a un contributo, io credo, estremamente rilevante, che il CRS4 ha dato a Luna Rossa. Luna Rossa, ricorderete tutti, è stata, diciamo così, ha goduto del Golfo di Cagliari come campo di allenamento, il CRS4 nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione ha potuto significativamente dare un supporto all'imbarcazione, alla gestione dell'imbarcazione e io credo, insomma, che un piccolo contributo per l'obiettivo che è stato, io credo, raggiunto e di cui tutti dobbiamo essere estremamente orgogliosi come italiani possa essere ascritto al CRS4. Grazie, grazie a voi. Un'ultima domanda, se posso, io so che lei ha un sogno nel cassetto che tra l'altro ha a che fare con il pianeta rosso. Non so se vuole dirci di cosa tratta. È un sogno che stiamo cercando di far diventare realtà. Io coordino un progetto tutto italiano che sperabilmente, auspicabilmente, quindi ecco il sogno, potrà portare con un vettore italiano una serie di payload italiani sul pianeta rosso nel 2029. Il progetto è all'attenzione dell'Agenzia Spaziale Italiana, è all'attenzione del Comint e recentemente ha avuto un supporto significativo dalle due regioni che in qualche modo fanno da driver rispetto a questo progetto, la regione Sardegna naturalmente e la regione Campania e quindi verrà presto rappresentato in conferenza Stato-Regioni e ci auguriamo che possa, a partire dal 1 gennaio del 2022, diventare operativo per consentirci di arrivare a martare, come si usa a dire, sul pianeta rosso nel 2029. Ci arriveremo a martare, allora, fantastico. Grazie Giacomo Cao, Ministro dell'Unione. Grazie a voi. Grazie Anna Gaudet.